Peggy 18 Capisco sia difficile da accettare. Anche per me è difficile. Dalli! Ma è così. No! Basta, ti prego! Domani io parto. Se avessimo gli uomini necessari, lei e Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare a missione? Come ci hai trovati? Non puoi impedirlo. Voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ti auguro di farcela. Devo finire questa cosa. C'è un prezzo. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. Potevamo uccidere. Potevamo. 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 Potevamo.